Tra un dei profondi si di wildiana memoria ed una conferenza stampa di fine anno tutti schierati come i cavalieri della tavola rotonda, il sindaco e i suoi assessori per rispondere alla conferenza stampa degli alleati nella quale erano volati gli stracci qualche giorno addietro. Grande incassatore Giovanni Ruvolo rilancia raccontando in un documento di 24 pagine le mirabilia di un lavoro teso a rilanciare la città con una flemma aristotelica perfettamente calato nel mondo delle idee, quelle progettuali che ancora non sono state apprezzate ma che lo saranno nel lungo termine. Il sindaco di Caltanissetta ha detto che solo così con il suo metodo, quello partecipativo, la città potrà risorgere dalle macerie al di là dei vecchi schemi della politica. Per la prima mezz'ora un one man show, tutti i silenzi dinanti all'eloco del primo cittadino. Silenti gli assessori che nella seconda parte sono rimasti tali nonostante le sollicitazioni da parte del loro d'antecausa, tranne due Massimo Bellomo che ha preso la parola in una sorta di escusazio non petita per parlare del suo assessorato senza portafoglie per ribadire che le cose cominciano e finiscono come le pratiche amministrative che si aprono e si istruiscono, poi si concludono e che lui è un assessore tecnico e politico e che è anche dunque la testera di partito, forse buono così per tutte le stagioni. Matteo Tricoli, sollecitato invece dalle domande dei giornalisti sul ridimensionamento scolastico, ha risposto di altri niente, neanche una parola, forse consapevoli alcuni della imminente di partita amministrativa. Il tema della politica in senso stetto è stato toccato solo dopo alcune domande stringenti, risposte generiche niente di chiaro e a deduzione di chi la politica la sa interpretare, il sindaco ha ribadito che non ci sta i ricatti per la conquista di posizioni, si riferiva probabilmente all'atteggiamento di Sicilia Futura che ha ribadito o azzeramento o opposizione e però in quell'apertura all'area riformista ci sta tutto un mondo, due assessori da dividere in nove. I ben informati dicono che già l'aggiunta sia stata fatta nelle cose e che dovrebbe essere composta dall'Alleanza per la Città con l'aggiunta della componente moderata. Numeri, due assessori all'area riformista, uno rimarrebbe all'Udc, due al Polo Civico, uno ai moderati. Prima di fare nomini le variabili in realtà sono molte, intanto come la mettono i cugini del PD con i parenti di Sicilia Futura all'area riformista durata da Natale sino a Santo Stefano, se non si trova la quadra. E poi l'Udc con quattro consiglieri e un solo assessore a scapito di tre consiglieri del Polo Civico, come sempre sovradimensionato e comunque i moderati entrerebbero in rappresentanza di se stessi oppure con un piede dentro il Polo. I nomi che girano nei corridoi del Palazzo sono per il Polo la riconferma della Castiglione, una new entry Carlo Campione che cederebbe il posto alla prima dei non eletti, Patricia Giugno. E poi per i moderati Rita Daniele che però non si dimetterebbe considerato che è stata eletta con l'Udc e quindi non agevolerebbe l'entrata di un consigliere del suo ex partito con il quale si è separata in rottura. Il PD dovrà dare due assessori politici e ancora tutto da discutere sull'area di arrivo. O due nomi, Vito Margherita, previe dimissioni della sorella Manuela che pare stiano per arrivare. L'altro nome dovrebbe essere dato in quota circolofalettra, forse considerata anche adesso Ciccilla Futura, ma per salvare Caprecavoli al posto di Margherita potrebbe andare Ivocigna a garanzia di tutti o quasi. Stante così le cose l'Udc riconfermerebbe l'assessore attualmente vice sindaco Matteo Tricoli o potrebbe decidere di uscire dall'aggiunta e completare l'esperienza amministrativa, lo deciderà il gruppo consigliere in autonomia. La partita da giocare per il sindaco è complicata, infatti in ballo la posta è alta, da un lato l'equilibrio in maggioranza che così non ci sarebbe comunque, dall'altro la possibilità di continuare a governare o di ricominciare o cominciare a governare serenamente per attuare il programma elettorale. Ma il sindaco ha detto che non ha bisogno di nessuna gancio politico nazionale o regionale per governare e questo è un altro dato da prendere in considerazione.